perché gesù cristo il re dell'universo che ha queste legioni di angeli dice questa frase la vigna è grande ma gli operai sono pochi può essere che questo re ha pochi operai la vigna è grande gli operai sono pochi perché gli operai sono dei deficienti semplice quando gli operai sono che si credono di essere chissà chi perché cristo li chiama postoli diventano deficienti e quindi fanno finta di operare non lavorando la vigna invece gli operai quelli che non si sentono niente che non hanno niente che si sentono sempre a disagio si sentono in colpa umili ma che sono disponibili quelli sono i veri operai quindi c'è un grande insegnamento in questa frase assolutamente ma gesù sapeva che gli apostoli eravamo diciamo dico in generale tutti arroganti e per farci andare avanti nell'evoluzione abbiamo dovuto dare la vita perché altrimenti facevano andavamo come giù dall'inferno quando siamo stati tutti crocifissi lapidati allora siamo diventati apostoli quindi noi per guadagnarci il paradiso dobbiamo essere dobbiamo combattere nella società come guerrieri anticrimine antimafia anticorruzione antitutto essere derisi perseguitati incarcerati uccisi poi forse vedremo le astronavi ma finché noi ci facciamo la vita comoda a casa o pensiamo solo perché crediamo o pensiamo solo perché stiamo donando aiutando funima o piero giorgio ci salviamo non sarà così ve lo dico con tutto il cuore quella la telecamera se solo se sarete uccisi perseguitati derisi di fronte a questa società o andare in carcere o comunque perseguitati e vi toglieranno tutto allora andremo nelle astronavi e in cielo altrimenti faremo la morte seconda non ci accoglieranno ecco perché io faccio di tutto per essere perseguitati ucciso perché so che se non lo sarò non sarò con dio quindi questo è una cosa importante che tutte le arche per lo meno non è che dobbiamo andare e farci lapidare dobbiamo essere pronti a farlo poi magari possiamo vivere in un palazzo in una reggia in una casa di 500 stanze ma dobbiamo avere dentro la prontezza la disponibilità a lasciare la vita a essere uccisi a essere incarcerati senza battere ciglio poi se il signore ce lo dispensa quindi non basta il signore ce lo dispensa la vedo come una tentazione una prova ma la vado a cercare la persecuzione quindi non basta una condivisione di ideali la condivisione di ideali e l'inizio ci vuole poi una partecipazione poi deve esserci la portace la partecipazione con un aiuto se puoi aiutare finanziariamente se puoi mettere le mani un microfono e poi devi dare la faccia e poi devi rischiare la vita e poi devi essere ucciso forse dopo andrai nel nuovo regno forse tu come stigmatizzato hai visto che è difficile seguire cristo ma chi ve lo fa fare a seguire cristo lasciatelo a questo pazzo seguite buddha ecco adesso diranno che sei un inquarente che dici di se credetti a gesù e poi dice no dovete seguire buddha la new age dovete seguire i maestri orientali che vi daranno tutta la gioia interiore la pace l'amore cazzate dovete seguire il cristo e morire per lui e allora vedrete il paradiso morire per lui per i valori che lui ha portato la giustizia la fratellare ho detto io sono un giornalista di strada non ho lauree in giurisprudenza non ho dottorati ma che c'entra uno come me che difende un magistrato innocente cioè lo dovrebbero fare tutti i cittadini italiani e questo perché io voglio cercarmi voglio cercarmi la derisione la persecuzione perché credo nel messaggio di cristo e i miei fratelli delle arche me le trascino nei teatri a dare la faccia perché voglio che loro vanno in paradiso chi diserta questa scelta non ci andrà ma non è perché io gli voglio male è scritto nel vangelo certo gesù ha detto pierre e questo lo devono leggere tutti i fratelli che mi ascoltano gesù ha detto non sono venuto a portare la pace ma la spada quindi cercate di capirlo altrimenti diceva sono venuto a portare la pace l'amore la serenità lui è venuto a portare la spada gesù l'ha detto non giorgio cosa è questa spada giorgio la rivoluzione la verità la rivoluzione sociale l'aggressione la violenza non fisica verbale il denuncia questa è la spada io dividerò il padre dalla madre il fratello dal fratello il figlio dal padre l'ha detto gesù c'è sto vangelo a noi gridiamo tanto cristo ma lo leggiamo sto vangelo c'è scritto io sono venuto a separare le famiglie lui l'ha detto non giorgio che voleva dire ecco perché il coraggio di dire la verità io non mi non mi nascondo dietro un dito io so che il rischio che vengo lasciato lo solo e abbandonato senza soldi senza che i miei figli rischiano di morire di fame per dire queste cose ma credo che il padre c'è e che qualche anima generosa me la avvicina sempre per aiutarmi ma non sono ipocrita molte di voi siete ipocriti questa è la differenza tra me io faccio questa differenza non sono ipocrita certo che posso sbagliare ma non sono ipocrita c'è quello che ho dentro lo tiro fuori molti di voi che mi ascoltate quello che avete dentro non lo tirate fuori perché siete ipocriti anche perché sapete che se tirate fuori delle cose sbagliate io vi faccio a pezzi e quindi è meglio non tirarle fuori giorgio tu come stigmatizzato hai visto giovanni battista lui è stato sempre così per tre anni due coglioni proprio se l'hanno tolto di mezzo cioè questo era la personalità di giovanni battista polemi sempre così parlava quindi come potevano non ammazzarlo the bon giovanni family la voce degli extraterrestri il sito ufficiale di giorgio bon giovanni documenti immagini e testimonianze su una delle storie più straordinarie di tutti i tempi l'apparizione delle stimmate e le indagini medico scientifiche più di un miliardo di persone incontrate in tutto il mondo filmati e interviste esclusive sul fenomeno extraterrestre il testo inedito della madre di tutte le profezie un archivio completo dei messaggi dal 1990 ad oggi con dossier e ricerche su temi di estrema attualità una chiave di lettura chiara e completa sui fatti che sconvolgono il mondo una risposta per chi cerca la verità a a a a a a a